Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Il Molise è sempre più schiacciato dalle tante crisi produttive ma il governo regionale appare immobile, privo di proposte adeguate. Intanto i sindacati contestano il piano industriale della GAM e chiedono l'immediata ripresa produttiva e il pagamento delle mensilità arretrate. Giovanni Minicozzi. ITR, zuccherificio, precari della protezione civile, piccole e medie imprese in difficoltà, edilizia bloccata, commercio e turismo, esuberi nella sanità e GAM. È un vero e proprio bollettino di guerra che attesta lo stato comatoso dell'economia molisana, una situazione di estrema criticità che mette a rischio complessivamente circa 7.000 posti di lavoro, molti dei quali sono già svaniti nell'urla, relegando centinaia di famiglie in una condizione di assoluta povertà. In tale contesto il governo regionale, guidato da Paolo Frattura, appare imbalsamato e incapace di proporre soluzioni adeguate per fronteggiare la devastante crisi a partire dal segretato piano industriale che dovrebbe rilanciare la filiera avicola. Loro hanno presentato questo piano di rilancio ma questo avverrebbe solo fra 16 mesi se l'azienda, se tutto va bene. Ovviamente il primo bollo, secondo il loro piano, dovrebbe uscire dal macello fra 16 mesi. Ma questa cosa per un'azienda a vicolo non è una cosa positiva perché significerebbe che per 16 mesi il pollo molisano non è più sul mercato o perlomeno il pollo che usciva dalla gamma. Ovviamente questa è una preoccupazione perché poi si partiranno con 100.000 bolli per il primo semestre per arrivare al sesto semestre con 250.000 bolli. Ma io voglio dire una cosa, oggi l'azienda è stata chiusa col silenzio di tutti. Nessuno ne parla di questa azienda, questa azienda produceva il 6% del prodotto interno lordo molisano e nessuno ne parla che l'azienda più grande dopo la Fiat è stata chiusa. Guardi, noi di piano industriale ne abbiamo visti tanti e io mi auguro che questo sia quello giusto anche se presenta molte criticità di cui si parla dei sociolavoratori, si parla di esuberi e questi sono tutti i punti che poi dovremmo rivedere. Io mi auguro che adesso ognuno si assume la sua responsabilità perché la regione comunque ci hanno fatto delle promesse che si andava sempre avanti e non si lasciava a piedi nessuno. Poi abbiamo gli arretrati, abbiamo da ottobre che non percepiamo lo stipendio e anche qui la regione si deve assumere la responsabilità di pagarci lo stipendio a noi, alle persone che oggi ancora comunque stanno lavorando e stanno dando una mano a mantenerla aperta, quel lumicino acceso e gli avventisi. Gli avventisi non hanno preso nemmeno il TFR, gli avventisi sono dei lavoratori che sono rimasti senza né ammortizzatore sociale e senza reddito, quindi io mi auguro che la regione al più presto paga anche queste persone. Anche gli allevatori e i trasportatori chiedono la liquidazione delle spettanze maturate e la riapertura immediata dell'azienda seppur a ciclo ridotto. Diversamente hanno fatto sapere attueremo eclatanti azioni di protesta. Terremoto giudiziario nel mondo della scuola a Campobasso. Il PM Papa chiede il rinvio a giudizio per 12 persone con accuse gravissime che vanno dall'Associazione a delinquere al peculato e alla truffa. Coinvolto un istituto campobassano e l'ufficio scolastico regionale. Sparite decine di migliaia di euro. Sentiamo Pasquale Di Bello. Quattro anni di indagini, migliaia di documenti esaminati, centinaia di ore di intercettazioni, decine di perquisizioni e 12 richieste di rinvio a giudizio per reati che vanno dall'Associazione a delinquere al peculato, dalla truffa alla concussione e al falso ideologico. Sono questi i numeri e le accuse gravissime di un'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Fabio Papa e condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Campobasso distaccati presso la procura del capoluogo. I fatti si riferiscono al periodo che va dal 2006 al 2009 e a finire nel mirino degli inquirenti una rete di insospettabili tutti appartenenti al mondo della scuola, figure che hanno rivestito in passato ruoli apicali all'interno dell'ufficio scolastico regionale, docenti e personale ATA collocati presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Campobasso, il Montini per brevità. Migliaia e migliaia di euro sottratti ai fondi per progetti scolastici e formazione professionale e finiti nelle tasche di un gruppo costituito e organizzato, questa la ricostruzione del magistrato Papa, dedito ad una serie di gravissimi illeciti finanziati all'arricchimento personale. Fondi tutti appoggiati sul conto corrente dell'Istituto Montini e dai quali con atti falsi, trucchi, artifici e raggiri venivano detratti soldi destinati a progetti e formazione, interessi bancari intascati illegalmente da dirigenti e funzionari, rimborsi non dovuti e percepiti, incarichi lautamente retribuiti e indebitamente conferiti e accettati, spese allegre per pranzi e persino per un servizio fotografico da 290 euro commissionato dall'allora direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il proprio ritratto, una fotografia da usare sul sito web, tutto pagato con fondi distratti da quella che doveva essere l'ordinaria destinazione. Un quadro desolante di intrecci, manipolazioni, rapporti vischiosi tutti interni al mondo della scuola, decine di progetti manipolati e distorti a proprio uso e consumo a partire da quello che porta il nome del filosofo, poeta, drammaturgo e politico romano, Lucio Anneo Seneca. E' proprio dal progetto Seneca che si dirama la rete di illeciti contestati dal PM Fabio Papa, da quel progetto che porta il nome dell'autore noto per le lettere a Lucillo, ma che scrisse anche il De Beneficis, un trattato sulla beneficenza, un concetto che al Montini e all'ufficio scolastico regionale i dodici indagati pare abbiano compreso alla perfezione, beneficenza, ma verso se stessi e con i quattrini dei cittadini. E ora parliamo di una strana coincidenza, una strana triangolazione tra la squadra mobile di Campobasso e l'ufficio di gabinetto della Presidenza della Giunta regionale del Molise. Una vicenda dai contorni oscuri che coinvolge la nostra emittente sulla quale speriamo si faccia a luce al più presto. Giovanni Minicozzi. E' con rammarico e amarezza che prendiamo atto di un inaudito attacco sferrato contro la nostra emittente da persone ancora non identificate, perché i loro nomi, se esistono, sono ancora coperti dal doveroso segreto istruttorio. Dunque, sui mandanti c'è ancora riservatezza, ma potete contarci, quei nomi verranno fuori perché Telemolise, se l'inchiesta verrà formalizzata, chiederà la copia dell'intero fascicolo. Invece, sulle modalità di quello che sta accadendo, è doveroso sollevare più di un interrogativo, visto che la vicenda, approdando su un quotidiano regionale, è ormai diventata di dominio pubblico. Ma di cosa parliamo? Presto detto, il capo di gabinetto del governatore, Maria Olga Mogavero, ha chiesto per iscritto a tutti gli enti e le agenzie sub-regionali di comunicare a Tambur Battente, entro la data del 10 gennaio, l'eventuale esistenza di contratti in essere con Telemolise. La lettera viene motivata da un'altra comunicazione, inoltrata agli enti dalla stessa squadra mobile della questura di Campobasso, è indirizzata alla Regione per conoscenza. Da sottolineare che la nostra emittente non ha alcun contratto pubblicitario in essere con gli enti in questione, ma la domanda è perché una richiesta del genere? Si tratta di un'indagine conoscitiva della Procura? E perché farla passare per il capo di gabinetto del Presidente della Regione? O è un'iniziativa autonoma della questura, o meglio, della squadra mobile? E poi, se è un'inchiesta portata avanti con delega della Procura, come mai non c'è alcun riservo procedurale, visto che la Presidenza della Regione parla della richiesta della questura per iscritto in una lettera inviata ad una decina di uffici è finita perfino sulla stampa? E come mai non si acquisiscono direttamente gli atti da parte degli inquirenti e si ha bisogno di una sponda alla Regione? Cos'è questa triangolazione? Troppi fatti strani, troppe coincidenze. Siamo sicuri che non c'entri nulla la conferenza stampa in cui Iorio chiedeva di far luce sulla compatibilità ambientale di un alto dirigente della questura di Campobasso? Speriamo di no, ma le anomalie ci sono, sono tante e non vorremmo che facciano parte di un disegno occulto, manovrato dietro le quinte e magari sollecitato da qualche esposto anonimo. Tutti in derogativi legittimi e, lo ripetiamo, ne parliamo liberamente perché la notizia è ormai di dominio pubblico ed è anche stata riportata oggi da un quotidiano regionale. In conclusione, il sospetto è che qualcuno voglia condizionarci, tapparci la bocca, intimorirci, intimidirci, insomma, metterci il guinzaglio. Chiudiamo con tre parole. Hanno sbagliato indirizzo. Non cala la tensione attorno alla vicenda ITR. Lunedì mattina a partire dalle 9.30 è previsto un nuovo presidio dei lavoratori davanti alla prefettura di Isernia. Intanto l'assessore Scarabeo ha parlato della possibilità che anche l'attuale gestione, quella di Bianchi, possa chiedere le misure previste dalla legge Marzano, ovvero un nuovo commissariamento. Enzo Di Gaetano. Resta alta la tensione attorno alla vertenza ITR. Infatti a partire da lunedì mattina alle 9.30 è previsto un nuovo presidio dei lavoratori in agitazione davanti alla prefettura di Isernia. Dall'incontro di ieri con Fratture Scarabeo è comunque venuto fuori che la regione non ha alcuna intenzione di fare impresa lanciandosi in una nuova avventura industriale dopo i disastri rimediati con la gamma e lo zuccherificio. Lo ha detto chiaro e tondo lo stesso Frattura. La regione si sarebbe caricata sul groppone anche i 90 milioni di debito dell'ITR gestita da Bianchi. C'è tutta la volontà invece di battere le strade per attivare ogni forma possibile di ammortizzatore sociale, tra cui cassa integrazione e mobilità, in modo da rendere più facile la ricollocazione del personale. Ma i lavoratori vogliono risposte immediate e non mollano la presa, da cui la decisione di presidiare la prefettura di Isernia. Ieri è venuta fuori anche un'altra novità, quella che la nuova ITR di Bianchi, per indenderci, potrebbe far ricorso anch'essa alle misure previste dalla legge Marzano sulle grandi aziende in crisi, come ha detto l'assessore Scarabeo. È un'azienda che potrebbe anche finire, mi lasci passare questo termine, in amministrazione straordinaria. Ha oltre 300 persone al libro matricola e soprattutto ha un indebitamento quattro volte superiore al capitale investito. Quindi rispetto a questo noi ci ritroveremo pure con un'eventuale ulteriore ITR in amministrazione straordinaria. E chi può fare il primo passo per questa strada, assessore? Non è il primo passo, sono i requisiti della legge Marzano, insomma, sono disposizioni legislative. Siamo in attesa di sapere anche il Tribunale di Isernia che cosa farà rispetto al piano industriale che gli è stato concesso in termini di proroga, che presenterà e vedere se questo piano industriale potrà soddisfare o meno quella che è la procedura concursuale. I sindaci dell'area del cosiddetto cratere denunciano gravi ritardi e problemi per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto. La regione ci convochi entro pochi giorni per un incontro urgente, altrimenti verranno intraprese nuove azioni di protesta. È l'annuncio degli amministratori. Fabrizio Chionero. Nonostante gli annunci, il Governo regionale non ha condiviso con i sindaci alcuna strategia e decisione sul futuro della ricostruzione del post-sisma. In Molise, gli amministratori dei centri più colpiti dal terremoto hanno espresso così il loro dissenso all'operato del Presidente Paolo Frattura e del Consigliere Delegato Salvatore Ciocca. Hanno quindi lanciato una sorta di ultimatum di cinque giorni per chiedere un incontro urgente ai vertici regionali e discutere della nuova gestione degli interventi rispetto ai quali i sindaci dissentono totalmente e nettamente la presa di posizione e arrivata all'indomani di un incontro che si è svolto nella sala consigliare di San Giuliano di Puglia. I sindaci si sentono esclusi da tutte le decisioni e tra i propositi disattesi da parte del nuovo Governo regionale hanno osservato c'era la modifica della legge che ha istituito l'Agenzia di Protezione Civile, secondo una proposta finalizzata a far gestire direttamente ai sindaci le attività di ricostruzione, evitando le lunghe e complesse procedure burocratiche. Il Comitato ha inoltre evidenziato che gli impegni relativi alla liquidazione entro fine 2013 degli stati di avanzamento dei lavori già maturati dalle imprese sono stati clamorosamente in parte disattesi. Dal terremoto sono però passati oltre 11 anni e chi governa ai piccoli centri si ritrova ancora una volta a protestare tra mille disagi e incertezze. Per queste ragioni gli amministratori hanno chiesto un incontro entro la prossima settimana al Governatore Fratture e al Consigliere Ciocca. In assenza di un riscontro hanno concluso i sindaci del cratere saranno valutate ulteriori iniziative. E sul concorso per il comando della Polizia Municipale al Comune di Termoli, sindaco Antonio Di Brino ha replicato le accuse dei consiglieri della minoranza di centrosinistra. Secondo Di Brino l'operato dell'attuale amministrazione è stato regolare e le azioni intraprese sono state dirette a verificare le procedure concorsuali e il contenimento della spesa. Il sindaco di Termoli ha quindi ribadito un comportamento corretto e legittimo in merito a una vicenda su cui dovrà pronunciarsi anche il Consiglio di Stato. Una rapina davvero curiosa quella che c'è stata questa mattina alla succursale delle poste di Isernia. Il primo a darne notizie è stato infatti lo stesso rapinatore. Il colpo ha comunque fruttato poco, appena 500 euro. Sentiamo i dettagli da Sergio Di Vincenzo. Non sarà un rapinatore professionista ma di certo è il gusto per la burla o meglio per lo scoop giornalistico. Prima di allontanarsi dall'ufficio postale di Corso Garibaldi infatti ci ha tenuto a dare la ponte. Lei cosa ha visto? Ho visto un ragazzo uscire che diceva andatemi perché ci sta una rapina in corso. Sicuramente era lui, credo. E poi è andato giù da quella parte e basta. Come era vestito, più o meno si ricorda? No, ho visto solo che c'aveva il cappello magro e alto e basta. Non c'è che dire. Una rapina insolita. Nel posto e nel momento forse meno immaginabile. Poco prima delle nove di questa mattina, mentre i primi clienti cominciavano a girare tra le bancarelle del mercato di Isernia, un giovane alto e magro, vestito di scuro e con un berretto in testa, è entrato nella succursale delle poste per mettere a segno un colpo. In quel momento, agli sportelli, c'erano quattro dipendenti e tre clienti. Il rapinatore aveva in mano un coltello di piccole dimensioni. Ha minacciato un paio di cassiere, poi è saltato dietro il bancone e ha preso i pochi soldi che c'erano nelle casse. Si parla di una cifra che oscilla tra i 300 e i 500 euro. Pochi istanti dopo, il giovane è uscito dall'ufficio in tutta calma, facendo perdere le proprie tracce mescolandosi tra i clienti delle bancarelle. Una dipendente delle poste sotto shock è stata accompagnata all'ospedale veneziale per accertamenti. Del caso se ne stanno occupando gli uomini della squadra mobile, in collaborazione con i colleghi della polizia postale. Oltre ad attivare posti di blocco sulle strade principali, gli agenti hanno concentrato le ricerche nel centro storico. Nel frattempo sono state raccolte testimonianze dentro e fuori l'ufficio. Il giovane avrebbe un accento campano. Sono state acquisite e visionate anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Con ogni probabilità, gli uomini del dirigente Alessandro Gallo hanno già in mano un fermo immagine con il volto del rapinatore. Ma almeno per ora, del giovane non c'è traccia. Servizi smantellati e gravi ripercussioni sui cittadini dell'area frentana. Continua la protesta del comitato provietri di Larino dopo gli ultimi provvedimenti legati al piano di riordino sanitario. Carolina Mancini, da sempre in prima linea per la difesa dell'ospedale, parla di una penalizzazione enorme per il territorio. Fabrizio Eccionero. L'ospedale di Larino esce devastato dai nuovi provvedimenti del piano di riordino sanitario. Carolina Mancini, da sempre in prima linea tra le fila del comitato provietri, si sente tradita dalle ultime decisioni e parla di una penalizzazione enorme per i cittadini che, osserva, vedranno altri servizi smantellati, problemi e disagi rispetto a un diritto alla salute che invece dovrebbe essere tutelato. La ripartizione dei posti letto e quindi delle risorse sono a vantaggio della sanità privata. Siamo ancora una volta di fronte alla ripartizione per numero di strutture e non per numero di abitanti, tant'è vero che nel Basso Molise non arriviamo neppure alla soglia necessaria a garantire i livelli essenziali di assistenza. Se l'ospedale di Larino esce martoriato dal nuovo piano, l'esponente del comitato non nasconde delle possibili alternative per evitare di ridurre una sorta di cronicario, una struttura così grande e attrezzata. Con il Presidente si era parlato di istituire a Larino un centro di eccellenza e non certamente un cronicario come è sempre stato proposto per il nostro ospedale e come ancora attualmente si tenta di fare. Se noi diamo un'occhiata al numero di posti letto attribuiti per la lungodegenza e la riabilitazione, vediamo che vengono attribuiti 88 posti a Fondazione Giovanni Paolo II e a strutture pubbliche e mi pare 136 alle strutture private. Quindi neanche a dire che Venafro e Larino potranno essere dei centri di riabilitazione o lungodegenza, naturalmente riferimento regionale e quindi poli di eccellenza di almeno queste specialità. La Mancini evidenzia anche un altro aspetto. Nell'ospedale di Larino, che poi fra l'altro è una struttura imponente, non ci si può mettere un poliambulatorio e quattro posti letto di riabilitazione e lungodegenza perché questo non servirebbe a niente. Questo significa la chiusura dell'ospedale. Poi abbiamo precisato al presidente Frattura che noi qui nel Basso Molise rimarremmo con una sola chirurgia e abbiamo cercato di fargli capire che come è necessario che a Campobasso ne permangano quattro o cinque, con quasi lo stesso bacino di utenza. Non ci si può chiedere a noi il sacrificio di rinunciare a tutto. Approvato dalla Commissione giuridica dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti il quadro di indirizzi sulla stampa presentato dall'Ordine regionale. Un passo importante per favorire criteri di oggettività e trasparenza della stampa molisana ed evitare condizionamenti della linea editoriale delle redazioni. Il presidente Frattura ha già annunciato che a febbraio presenterà il documento all'attenzione della Giunta per il riordino della materia. Marta Martino. La Commissione giuridica dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, grazie anche all'impegno del suo vicepresidente Enzo Cimino, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul quadro di indirizzi della stampa presentato dall'Ordine dei Giornalisti del Molise. Il documento è stato recepito positivamente sia nell'impostazione generale, che prevede interventi legislativi differenti per le diverse tipologie editoriali, che nel dettaglio, cioè negli aspetti più specificatamente normativi. L'Ordine ha già provveduto ad informare il presidente della regione Frattura, che ha pubblicamente assunto l'impegno di far varare dalla Giunta entro la fine di febbraio la proposta di riordino del sistema. L'approvazione della Commissione giuridica nazionale rappresenta il giusto riconoscimento del lavoro dell'Ordine e dei consiglieri nazionali, tutti consapevoli delle gravissime difficoltà in cui verse il settore. Il quadro di indirizzi in sintesi prevede che il contributo regionale sia improntato a criteri di oggettività e trasparenza per evitare condizionamenti della linea editoriale. Tiene conto di tutte le tipologie editoriali tv, radio, stampa, web, ma in particolare considera le loro differenti strutture, soprattutto in termini di costi e di cui la previsione di leggi ad hoc con propri capitoli di bilancio piuttosto che di un'unica legge di sistema. Tuttavia a caratterizzare il quadro di indirizzi dell'ordine l'attenzione rivolta ai problemi della categoria segnate in maniera massiccia da disoccupazione, precariato e lavoro nero. Ecco dunque l'attenzione prestata al lavoro al rispetto delle norme contrattuali giornalistiche agli strumenti bonus e sgravi che possono favorire nuova occupazione. Insomma, nonostante sia estranea all'ordine qualunque funzione specificatamente attinente alla natura sindacale, è apparso doveroso rappresentare prima nel quadro di indirizzi e poi al presidente della regione che solo in un contesto che ponga al centro dell'attenzione ai giornalisti appare credibile ogni tentativo di garantire la loro autonomia e di ridurre il peso della crisi del settore. A Isernia, nella sede del PD, il parlamentare e segretario nazionale dei giovani democratici Fausto Raciti ha presentato il suo libro dal titolo L'imbroglio della democrazia. In vista del congresso regionale del Partito Democratico, il segretario nazionale dei giovani democratici Fausto Raciti ha voluto incontrare i militanti molisani per delineare la posizione del movimento giovanile che chiede senza giri di parole maggiore visibilità e coinvolgimento, premessa necessaria per un reale cambiamento. A Isernia, il parlamentare del PD, ha presentato anche il suo ultimo libro di denuncia sociale dal titolo L'imbroglio della meritocrazia. L'imbroglio della meritocrazia è l'imbroglio di una società nella quale si racconta che basta studiare per occupare in futuro una buona posizione sociale, avere un buon lavoro, un buon reddito. In una società troppo disuguale non è così e la società italiana è una società troppo disuguale in cui i ricchi sono troppo ricchi e i poveri troppo poveri. È uno scritto anche di speranza perché l'idea di base è quella per cui redistribuendo il reddito verso i ceti sociali più bassi e le opportunità verso i ceti sociali più bassi non solo avremo elite migliori perché saranno di più quelli che parteciperanno alla selezione, parlo delle elite politiche, delle elite industriali, delle elite imprenditoriali, delle elite delle professioni e via discorrendo. Ma sarà anche una società all'interno della quale ci sarà una vera mobilità sociale, cioè la possibilità per chi nasce in una condizione di svantaggio di migliorare la propria condizione sociale. I giovani democratici sono molto attivi anche in Parlamento dove stanno lavorando a una proposta che mira a creare occupazione e a dare maggiori diritti soprattutto ai precari. Noi stiamo discutendo in questi giorni il cosiddetto Jobs Act che significa due cose fondamentalmente, una politica di investimenti soprattutto in alcuni settori strategici per il futuro del nostro Paese e dall'altro una riforma del mercato del lavoro. Due aspetti che ci sembrano fondamentali, da un lato l'estensione dei diritti, mi riferisco soprattutto alla malattia e alla maternità anche per i lavoratori precari che oggi ne sono completamente sprovvisti, dall'altro l'abbassamento delle tasse sul lavoro per i giovani assunti. Il numero degli immigrati impiegati nel settore dell'agricoltura è in costante aumento, c'è dunque la necessità da parte degli imprenditori agricoli di conoscere la normativa nazionale che disciplina l'inserimento e l'inclusione della mano d'opera proveniente da altri Paesi. Con questa finalità la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, ha organizzato a Campobasso un incontro rivolto agli operatori del settore con particolare riferimento all'inserimento nel mondo lavorativo di mano d'opera proveniente dall'Egitto e dal Marocco. Ai lavori ha partecipato tra gli altri anche un tecnico del Ministero delle Politiche Agricole che ha illustrato le novità che riguardano l'inclusione di mano d'opera straniera nelle aziende agricole italiane. Strategie tecniche, spunti innovativi che derivano dalla raccolta differenziata, vista anche come un'opportunità di creare lavoro ed economia. Di questo si è parlato durante l'incontro voluto da Gal Molise e Borghi Autentici d'Italia nella sala della Costituzione della provincia di Campobasso. Sentiamo. Rifiuti zero. Sarà questa la parola d'ordine che anche la Regione Molise adotterà a breve per far fronte al problema dei rifiuti e delle discariche. Perché il riciclaggio degli scarti, ossia la possibilità di trasformare un oggetto da buttar via in qualcos'altro non è solo un vantaggio per l'ambiente, ma può diventare anche un'interessante opportunità di lavoro per tanti giovani e di fare economia, a vantaggio delle casse comunali e delle tasche dei cittadini. Questo è quello che Capannori, cittadina della Piana di Lucca, arrivata all'ineguagliato primato mondiale del 90% di raccolta differenziata, sta facendo ormai da tempo grazie all'idea di Rossano Ercolini, insegnante con la fissa dell'ecologia, che ha coinvolto prima i bambini della sua scuola, poi le famiglie e i comuni, in un progetto che ha abarcato i confini regionali e poi nazionali e gli è avvalso un prestigioso premio internazionale. Il messaggio che noi adesso diamo è quello, certo, di promuovere ecologia, di promuovere la sostenibilità ambientale, la salute dei territori, la salute umana in primo luogo, ma oggi c'è la possibilità, che nel passato non c'è stata, di connettere ecologia con economia. Oggi il versante economico, l'introduzione di livelli di impresa sostenibile sono un'opportunità per uscire dalla crisi. Investiamo. La difficoltà qual è? Sono gli start-up, cioè gli investimenti iniziali, soprattutto per l'occupazione giovanile. I giovani non hanno soldi da poter dire io metto 50.000 euro per partire. Allora le istituzioni dovrebbero selezionare, attraverso anche appositi bandi di concorso, idee, idee geniali da finanziare anche con piccole somme. Tutto in natura può diventare qualcos'altro, questo l'insegnamento di rifiuti zero, il protocollo firmato da oltre 200 amministrazioni italiane, presentato a sindaci e studenti nella Sala Costituzione della provincia di Campobasso, su iniziativa di Galver sul 2000 e associazioni borghi autentici d'Italia. Un protocollo che anche la regione molise ha intenzione di seguire, stanziando, ha ricordato l'assessore Facciolla, 25 milioni di euro per consentire a tutti i comuni molisani di avviare o potenziare la raccolta differenziata sul territorio, che se fatta bene può abbattere anche le tasse per la comunità, come ha spiegato anche Pietro Piva del consorzio Contarina. L'importante è che oggi si colga quell'opportunità che l'ecologia ci consente di cogliere, oggi dobbiamo fare squadra, il messaggio di rifiuti zero è un gioco a somma zero. Parliamo adesso del calendario realizzato anche quest'anno dalla Fondazione Potito di Campobasso, il connubio tra arte e scienza, il tema legato allo spazio di arte creato all'interno dell'Istituto di Ricerca e Centro Radiologico, sempre più all'avanguardia nella sua attività. Sentiamo. Arte e scienza si fondono nell'Art Garage della Fondazione Potito Istituto di Ricerca, a Campobasso, uno spazio aperto, un garage che diventa galleria d'arte, luogo dove ospitare incontri culturali e mostre, come quella attualmente allestita, omaggi a Andy Warhol, di cui ci sono le sue foto, e a Patrick Mimran, quadri moderni dai colori avveniristici, strumenti di radiologia ormai superati, lastre unite a formare uno scheletro umano, riproduzioni di oggetti in 3D con la strumentazione tecnologica di Potito, quasi pitture raccolte in un filmato proiettato in una mostra a Torino, poi un quadro di Nicola Ciaccia e un murales di Domenico Madonna. Abbiamo pensato ad uno spazio espositivo nel quale ognuno può avere i suoi 15 minuti di notorietà. e questa appunto la passione genera arte, la radiologia diventa arte ed è un danno vita così a un inconsueto esperimento di reinterpretazione artistica del concetto di tecnologia e sanità. Da tutto questo nasce appunto Art Garage perché l'arte non è dove pensiamo normalmente di trovarla, può essere ovunque. Murales in cui è raffigurato il padre della radiologia Röttgen che insieme a Duchamp dà il titolo al calendario realizzato da Potito anche quest'anno, lo fa da 11 anni, arte e scienza dunque in un connubio illustrato negli 11 mesi del 2014. L'occasione anche per fare il punto sull'attività svolta dal centro radiologico sempre più all'avanguardia per competenze, ricerca e strumentazione tecnologica. Noi in quest'anno siamo riusciti a fare nuovi investimenti, puntare su nuove tecnologie come ad esempio nel campo della senologia abbiamo installato proprio di recente un nuovo apparecchio di mammografia digitale con tecnologia di tomosintesi che è un'apparecchiatura davvero rivoluzionaria unica in Molise ma una delle prime in Italia e che consente di implementare notevolmente le capacità diagnostiche della mammografia digitale e soprattutto in soggetti giovani. Abbiamo installato qualche mese fa un nuovo apparecchio TAC che si chiama TC 3D con BIM che è dedicato allo studio del massiccio facciale e delle arcate dentarie. L'IT Marconi di Campobasso domani celebrerà la giornata della scuola aperta nel corso delle attività di orientamento realizzate per i ragazzi e le famiglie saranno presentate le peculiarità didattiche e l'offerta formativa. L'istituto sarà aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.00. È tutto, termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.